Con l'aiuto dei militari di Sigonella l'amministrazione di Mascaluccia inizia a pensare alla manutenzione degli impianti sportivi Turri Guglielmino City a Massa Annunziata. I militari americani accompagnati dal responsabile relazione esterna di Sigonella Alberto Lunetta sono stati ricevuti nella sala comunale del municipio di Mascaluccia dopo la condivisione degli inni nazionali il messaggio di benvenuto del sindaco Salvatore Leonardi. Oggi noi abbiamo due interventi qui abbiamo un team del Public Works della Marina USA di Sigonella che si è preso a cuore questo progetto del campo di Massa Annunziata e faranno un intervento il 14 giugno. Poi contemporaneamente abbiamo una delegazione del Civil Affairs Team della relazione esterna dei Marines che sono venuti qui oggi per presentarsi al sindaco. Quali sono i problemi di questo campo? Ma guardi l'impianto è in uno stato di totale abbandono. Sono state esperite gli accertamenti, l'accertamento preventivo dai danni da parte del giudice. Poi il sopralluogo sul campo è abbandonato all'incuria, i cui cancelli sono chiusi ormai da troppo tempo, l'erba secca è ormai alta e nel piazzale antistante non mancano i cumuli di immondizia. Questo campo da quanto tempo è abbandonato? Almeno dal 2011 perché prima era stato dato in convenzione al Calcio Catania e poi da lì è nato un contenzioso con l'ente perché il Calcio Catania riteneva di averlo riconsegnato al Comune durante un sopralluogo. Il Comune invece ai tempi già asseriva che non aveva avuto questa riconsegna con un atto formale e quindi per l'ente ai tempi la consegna non era avvenuta. Di conseguenza questa struttura si è ritrovata in stato di abbandono. Visto che ci sono botole di velte, ci sono un po' di interventi da fare, quali saranno le prime azioni dell'amministrazione? Le prime azioni saranno quelle di mettere in sicurezza la struttura, ossia ripuliamo tutto quello che riguarda il verde, chiuderemo queste botole e poi faremo un secondo step per ripassare i cavi di rame. È già stato programmato qualche capitolo di bilancio? No, perché noi non puntiamo a spendere soldi della comunità in quanto noi riteniamo che Calcio Catania debba in qualche modo intervenire in questa situazione.